Campogrande prova a sparare la tripla e segna Campogrande con anche il fallo passaggio pigro questa volta di Nicolao, brutta palla persa, può andare dall'altra parte allora ecco finalmente il canestro che interrompe il 15 a 0 di parziale di Varese paltasso per Campogrande che tira da tre senza pensarci un secondo e spara la bomba, meno 9 Roma ora palla persa da Nicolao che vuole andare dentro da scola ma non per la prima volta della partita commette un errore di pigrizia sul passaggio e allora dall'altra parte Campogrande può appoggiarsi al vetro per il 23esimo punto personale Grazie a tutti